La partita col Frosinone sia stata una partita proprio di rabbia, di grande cuore da parte di tutti. Io personalmente eravamo arrabbiato per le brutte sconfitte contro Empoli e Venezia, quindi ci tenevamo a far bene, a dimostrare che non eravamo quelli. Quindi sicuramente ripartiamo con più positività, più fiducia nei nostri mezzi e vogliamo continuare poi su questa strada, non fermarci. Secondo me siamo stati molto compatti, molto vicini tra i reparti. Io in campo avevo la sensazione che se comunque commettevo un errore c'era subito un compagno pronto a rimediare. Quindi questa deve essere la nostra forza, non solo col Frosinone, ma sempre. La rabbia dei tifosi è la stessa rabbia mia e della squadra, perché quando sono stato sostituito e il pubblico mi ha fischiato, ammetto che ci sono rimasto male, ma era giusto così, perché la prestazione non è stata buona. Avrei voluto giocare subito la partita col Venezia, ma purtroppo ero squalificato, sono rientrato col Frosinone e tutti abbiamo dato una dimostrazione importante di cuore, di orgoglio e ripeto, dobbiamo continuare su questa strada. Sarà una partita difficile come un po' tutte, perché questa Serie B ci ha fatto vedere che non ci sono risultati, tra virgolette, normali. Le grandi squadre che tutti pensiamo possano andare anche direttamente in Serie A hanno perso, comunque fanno fatica. Noi sappiamo che venerdì dobbiamo metterci lì e fare un'altra battaglia, un'altra guerra. Abbiamo attraversato un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, ma noi in settimana diamo sempre il massimo. Ci sono anche gli avversari, a volte l'obiettivo della vittoria si centra, altre volte no. Noi comunque in settimana diamo sempre tutto, siamo uniti, siamo un bel gruppo. In settimana noi proviamo varie soluzioni, quindi ci alleniamo su... Io stesso mi alleno a volte a centrocampo, a volte in difesa, dipende anche un po' dalle situazioni che si vengono a creare. Come dice il mister, è vero, l'atteggiamento deve essere sempre quello giusto. Quando c'è un atteggiamento positivo, voglioso, alla fine la prestazione esce sempre. Ma per fortuna io non sono il mister, quindi... Ma chi conosci però? Ma no, io non lo so, io provo sempre a dare il massimo in tutte le posizioni. Ecco, forse adesso in difesa sto trovando una certa continuità e mi piacerebbe continuare lì. Abbiamo provato relativamente poco, ci sono tanti miei compagni che possono giocare in quella posizione, vedi Petriccione, quindi io non ho assolutamente problemi, cerco di farmi trovare pronto per provare a fornire sempre una buona prestazione. Sono contento intanto di trovare una certa continuità che negli anni mi è sempre un po' mancata e le mie qualità, sì, sono quelle, cercare di far ripartire l'azione da dietro con delle buone geometrie. Quindi, ecco, penso che ritenermi fino ad oggi soddisfatto del numero delle presenze, ma la cosa importante, come ti ho detto prima, è la squadra, quello che mette in campo la squadra a livello di carattere, di determinazione. Poi le qualità tecniche qui a Bari, ci sono tanti giocatori bravi. Mi sto trovando a giocare in una piazza importante, una piazza con dei tifosi importanti e sto giocando molte partite, quindi sono soddisfatto dal punto di vista personale, ma questo arriva poi fino a un certo punto, perché noi vogliamo arrivare a traguardi importanti, quindi diciamo che la cosa fondamentale è l'obiettivo della squadra e quello che andiamo a mettere in campo tutti quanti. Io credo che un giocatore vuole sempre migliorarsi, quindi io ritengo che devo lavorare ancora tanto, lavorare in settimana e cercare di migliorare dove magari ho delle lacune. Però fino a questo momento la squadra sta viaggiando su una classifica anche comunque bella e dobbiamo puntare a migliorare sempre, a cercare di scalare posizioni per arrivare poi più in alto possibile.